Scena 6, uno prima, due delle tavole. Stefania Zioni. Venite ragazzi, entrate, accomodatevi. Pensate di essere scesi dal treno, di aver finito il vostro viaggio, invece ne cominciamo un altro. È un viaggio non solo dello spazio, ma anche del tempo. I ragazzi che scogliono la lettera di liste, un quadro, è tutto raccontato così. Sono tutte perline di quella cosa che avevano detto. Gian Piero Bosco, Quinta. Anna Graziani, Quinta. Giulia Roberto, Quinto A. Alessandro Dell'Aquila, Quinto B. Paolo Bianchini, Prima e Leventa. Valeria Fusco, Quinto B. Mamma Finkieri, Quinta B. Mi piaceva molto scoprire come si crea un film. Sentire le emozioni appunto del personaggio, del mio personaggio. Il mio personaggio mi ha preso. Sono molto felice, non mi aspettavo fosse così bello. Si sta creando una bella armonia, funzioniamo molto bene tutti insieme. Invece io ho provato tante emozioni a direzione e speriamo esca un buon lavoro. Allora, è stato un lavoro molto lungo. Ora che finalmente siamo qui a fare le riprese, tutto il gruppo, con Paolo, Alessandro, tutti quanti, ne vale la pena. Sono molto felice di questo progetto. Sono felice perché la media, delle medie che sognava di entrare a far parte realmente di una cosa del genere, è felice. Io devo essere sincero, all'inizio era un po' palloso, noioso. Però col tempo ho scoperto che è stata una cosa interessante, ho scoperto un gruppo simpatico, interessante. E' stata un'esperienza veramente... Interessante. No, interessante. Non lo facciamo.